Anche se qualcuno di voi ha mai visto Profondo Rosso, Dario Argento ha prestato degli oggetti di scena di Profondo Rosso per la clip Guarda i brividi No, dai, me ne vado C'è Lauretta, quindi possiamo cominciare Non era uno scherzo No, 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 Laura Pausini Pezzi, 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 pezzi Io non riesco a dirlo Perché non c'era R in pezzi? Eh lo so, però io non riesco a pronunciare la Z come lei Vabbè, mandiamolo dal logopedista È la Z di Arezzo 1 Esatto Di mettere la lingua sotto i denti Io sono capace, già faccio con la R tutto il mio meglio Ciao Paolino Ciao Andrea Buongiorno, ciao Luca Ciao a tutti Presentazione di pezzi di questa puntata Luca Dandoni, Andrea Lafranchi Siamo in una puntata molto particolare Devo dire, perché questa qui è una puntata Nella quale ci concentreremo Lo diciamo a beneficio di chi ci sta seguendo Vedendo o ascoltando Sui live che arriveranno nella prossima estate Anticipo che, e lo dico in due parole Eravamo già stati avvertiti Vero Andrea, vero Paolo Sulla fine dello scorso estate Dicendo da parte di tutti gli organizzatori Quest'anno ce ne sono stati tanti Troppi forse L'anno prossimo ce ne saranno meno In realtà non è proprio così Ma però sono più spalmati Perché guardando sugli elenchi che abbiamo visto Eccetera eccetera Si arriva ad un'estate che allunga Non sarà più estate Ma ottobre e novembre Allora sembrava che tutto questo fosse All'inizio figlio del covid Cioè c'erano stati i recuperi Poi quelli che erano stati fermi Sembrava che con l'estate scorsa Tutto si fosse esaurito Invece c'è talmente voglia Di concerti e di eventi live Lo vediamo dappertutto E non solo nella musica Guarda il calcio Ormai è sold out sempre A Milano, a Roma Anche le squadre che non vanno bene Non lo so C'è stato il salone del mobile a Milano Io non riuscivo ad andare in giro Con il motorino È vero C'è da dire che è anche piena di lavori Milano come buone parte Le città italiane Quindi questo non aiuta Però hai ragione È vero C'è molta voglia di live C'è molta voglia di stare insieme Verrebbe quasi da dire Paolo Faccio fare questa riflessione Voglio sapere cosa ne pensi tu Che questa coda lunga Della post-covid Cioè della voglia di stare insieme In realtà Non è stata ferma solo all'anno O i due anni dopo Cioè ancora adesso C'è tanta voglia di aggregazione Sì c'è voglia di aggregazione Ma secondo me Sarei ancora più Più deciso Cioè Io penso che ci sia anche voglia di verità Cioè di vedere E di sentire La musica Dal vivo Come ci sia sempre stato Ma è una sensazione che Diciamo la cosiddetta Musica liquida Le piattaforme In questo momento Non dà Io vedo Magari non è Una cosa diffusa Ma io Quando vado a vedere i concerti Vedo la gente Più attenta Al piacere Più partecipare Più attenta Al piacere della musica Pensa che invece Io la vedo al contrario Cioè Cioè mi è sembrato Di vedere sempre più spesso Che la gente È lì Per esserci non per ascoltare la musica ma questo io farei la distinzione dal tipo di artista c'è l'artista che è up to date in questo momento sta andando alla grande se volete vi dico un nome dove io ho avuto questa sensazione chiara e forte Kanye West al forum di Asago il concerto Paco, la grande truffa tra l'altro ma 90 persone 90% delle persone era lì per farsi lo scatto, il selfie con il fatto che sono al concerto di Kanye West del personaggio diciamo hype del momento ma delle canzoni di Kanye West non solo la maggior parte non ne conosceva una ma c'era veramente gente, eravamo lì insieme che si guardava e diceva ma tipo questa? quando ci sta anche perché era una settimana dall'uscita dal disco la cosa che a me ha colpito è stato che a un certo punto Kanye West se ne va dal palco, finisce questa audio experience e all'improvviso partono le sue hit del passato e lì la gente era si è fermata perché presa meglio perché le conosceva tutte la gente era presa meglio perché intanto erano hit del passato e non appena uscite noto questo sai e ho apprezzato moltissimo dipende il tipo di musica quando l'altro giorno Cosmo ha lanciato un tour nel quale ha appiccicato sui cellulari uno sticker, un adesivo perché? per non fare le riprese e non rovinare né la sorpresa a chi non c'è ancora andato ma soprattutto siccome poi il live di Cosmo è molto da ballare lui ha proprio detto ho fatto questa cosa alla prova generale perché non volevo lo spoiler ma ho visto la gente in un mezzo miracolo adesso dirò una cosa da boomer posso? ma pensai che ne sono super orgoglioso cringe se qualcuno potrebbe leggerla un po' cringe però che Cosmo faccia mettere le peccette sulle fotocamere capite che non fa il paio con Bob Dylan che ti dice non portare il telefono perché sono non due generazioni a confronto sono generazioni che non dovrebbero parlarsi ma sono tutte confluite sul fatto che il telefonino ha rotto le balle in tutte le sue espressioni che tu lo usi come torcia che tu lo usi per prendere per farti dei selfie che tu il telefonino a un concerto se ne sono ormai accorti in tanti è una cosa da tenere in tasca se parli con i ragazzini però scusami Paolo ti dicono ma come non è possibile esatto non è vero è possibilissimo è possibilissimo ed è per questo ti do ragione mi collego a quello che stava dicendo lui e in qualche modo confermo quello che stavo dicendo io prima e cioè c'è più voglia di di ascoltare musica veramente suonata con il polpastrello sulla tastiera e questo conferma il bisogno di non avere il cellulare ma ci sono dei generi musicali che non si dice più generi ma insomma ci sono dei pubblici che non possono esistere senza cellulare e sono i pubblici di Kanye West e quelli che invece possono esistere che sono quelli di Cosmo di Bob Dylan e di Gianna Nannini che aveva impedito l'uso impedito insomma sconsigliato e quindi però il problema della musica suonata non è il problema dell'hip hop l'hip hop è sempre meno suonato no quello certo è per questo che io credo che insomma con un ragionamento piuttosto complicato ma avete ma quindi quest'estate te lo porti il cellulare non in spiaggia ma ai concerti io mi porto il cellulare ai concerti e faccio una foto e l'inizio di una canzone ce l'ho questa è la proposta da fare facciamo bisogna che il pubblico faccia le foto come i fotografi professionisti i primi tre pezzi e poi via sì sì sono d'accordo ma questa come fa è dura ma anche perché perché poi sei la tua canzone preferita quella su cui ti sei fidanzato e sei lì con la fidanzatina è la numero 7 ma poi come lo impedì ma no il fatto è che non si può impedire ci vuole una questione è una questione di fidanzatina oggettivamente il fatto di vedere il concerto attraverso un display ma è una cazzata totale e sprechi anche i soldi per il biglietto lo sappiamo allora facciamo una bella cosa parlando di festival di questa prossima estate diamo uno sì diciamo dai tu cosa vai a vedere siamo in tre raccontiamoci che cosa andremmo a vedere noi premettiamo non sentirete dei nomoni non perché non ci piacciono ma perché non vi stiamo a raccontare e a dire dei festival che sono già ampiamente sold out è chiaro che Vasco è strapieno è chiaro che Taylor Swift sette volte strapieno è un record assoluto a San Siro poi c'è anche altro Taylor Swift l'hanno già comprata quando quando Taylor Swift stava pensando di venire hanno già comprato i biglietti quindi non staremo a dirvi questi però dal punto di vista degli italiani secondo me l'abbiamo appena visto ad Amsterdam non perdetevi Mahmood secondo me ho usato in Instagram sul mio posto Instagram forse sono stato un po' largo vai ai concerti col cellulare non va bene ho usato tipo il concerto perfetto poi dopo la perfezione non è di nessuno solo del signore se qualcuno ci crede però io sinceramente direi che è un concerto fatto molto molto bene quindi io consiglierei di andare a vederlo quello e anche quello dei Subsonica per gli italiani io sono convinto che insomma il concerto della mia estate sia un concerto già esaurito sono venduti tutti i biglietti anche i figli dei biglietti sono già stati venduti che è quello di ACDC però insomma è troppo facile consigliarlo per te il primo concerto della mia vita 40 anni fa è stato il concerto di ACDC quindi oggi ci vai col bastone adesso sarà l'ultimo quindi aspetta io non lo dico io non lo dico no aspetta però direi che il concetto di ACDC è qualcosa che rappresenta tutte le epoche musicali quindi io ve lo consiglio anche se non avete i biglietti andate fuori tanto rumore ne fanno ne fanno abbastanza vai Andrea io sugli italiani tu segnali due cose un po' fuori dal percorso principale e allora ne segnalo due anch'io la prima è Fulminacci che ho visto nei club poi quest'estate fa un tour in giro però ha una cosa bellissima me l'hai consigliato infatti mi ha messo serenità nel senso che nella musica oggi vedo un sacco di inquietudine inquietudine cupo depressione la violenza che può essere quella della trap il lato dark di quello la depressione di tanti cantautori Fulminacci mi ha messo un po' di leggerezza e soprattutto sai cosa mi è piaciuto? vederlo sul palco in una roba che sembrava di guardare i video delle tv americane anni 70 cioè con la band che fa le coreografie i fiati che suonano bellissimo mi ha messo leggerezza e poi ci ha mischiato dentro pezzi suonati invece punk un momento di elettronica tipo craftwork quindi quello di quelli che ho già visto e che consiglio e invece sono curiosissimo di andare a sentire Calcutta fighettismo è stato puro è il mio se posso dire ti cuoto su su Fulminacci ma sposto il nome io quest'estate andrò a vedermi Lucio Corsi perché Lucio Corsi che farà un sacco di date fighettismo puro non è fighettismo è David Bowismo non lo so è Morganismo boom ma insomma è un un ritorno un organismo è un organismo è un ritorno a Fiorello e Sanremo tanto sai che Paolo ci ha tradito cosa ha fatto ci ha tradito e questa gliela dobbiamo far pagare ma cosa fa dimmi si è candidato a presentare il festival di Sanremo dicendo che è automunito automunito poi parlo l'inglese meglio di Renzi e Discovery non si ha contattato a me però prima però è un fratello a me però prima ha detto che io e te siamo le vallette no 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 non è successo così ho detto che sui social questa proposta è stata accolta con essendo io sono un gigantesco favore eccetera però quasi tutti hanno detto si con Don Donera Franchi sareste la copia ideale per condurre il festival il tripleto il trisom ideale il trisom taglialo no ma è anche molto no non tagliamo perché scusami è così di moda a proposito di fighettismo no aspetta finiamo così saremmo il trio ideale per condurre il festival di Sanremo l'escano treo l'escano qualcuno magari se lo ricorda non è una parolaccia tu tu sì perché tu c'eri noi no no io me lo ricordo me lo raccontavano i miei genitori no io invece me lo sono segnato non voglio farvelo dimenticare ragazzi guardate che Salmo e noi Snarcos insieme sono un altro live secondo me è da vedere perché loro due insieme hanno già raccontato qualcosa di molto bello nel disco e anche in quel film che gli ha fatto quel mini film con Regini Dario Argento dove peraltro sono rimasto colpito perché se qualcuno di voi ha mai visto Profondo Rosso Dario Argento ha prestato degli oggetti di scena di Profondo Rosso per la clip dai guarda guarda i brividi pa 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 paraba no dai me ne vado pa 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 una cosa che mi ha turbato nell'adolescente pelle d'occa totale se quelle cose quindi Salmo Noise Narcos Live veniamo ad altre cose che possono essere interessanti Rufus Wainwright Nicki Minaj Doja Cat se vogliamo andare su delle cose americane molto molto belle altri live secondo me interessanti il festival invece dove ti dove ti piazzeresti con la tenda ne dico due va bene allora uno cast lo sappiamo già è un cast gigantesco da Metallica Green Day e sono gli High Days ed è insomma soddisfa la mia parte la mia parte che però non è un festival cioè lì devi con la tenda dovresti stare lì da maggio a ottobre esatto è diciamo un festival a rate ormai si fa tutto a rate quindi no comunque è un cast una rassegna che è un rassegna sì è un cast che comunque a me piace molto poi c'è un festival sul quale io scommetto a scatola chiusa perché il cast non è ancora stato annunciato ma noi ci siamo sempre trovati bene del Porto Rubino di Renzo Rubino al quale vogliamo molto bene appena è uscito il disco Il Silenzio Fa Boom dopo sette anni di attesa un disco molto bello anche molto personale e suonato tanto che lui dice l'ho suonato per pochi quasi sono convinto che la mia musica sia per pochi Andrea perché? e tra l'altro ha suonato con una banda cioè con una band e una banda ha raccolto le all star diciamo così delle band delle band delle bande pugliesi e le ha messe insieme perché è un disco che ha dentro anche tanta tradizione si parla di Madonna e della Ninna Nanna e poi c'è il video girato da Donato Carrisi che è un famoso giallista ma al di là del tornando al festival è da collegare a quello che stavo dicendo prima cioè la musica suonata al Porto Rubino si suona ovviamente la musica e sei a un centimetro da chi la suona e apprezzi fino in fondo però per arrivarci devi nuotare per arrivarci devi nuotare oppure remare è bello lei è sul porticciolo loro che suonano su queste specie di caicchi molto bene ma il tuo festival? il mio festival è il Prima Estate la Prima Estate siamo arrivati al terzo anno mi pare di la Prima Estate un festival che si tiene sulla costa toscana uno dei punti più belli lì di Camaiore tra via Reggio di Camaiore con degli artisti scelti fior da fiore li leggo perché non potevo ricordarmeli tutti ma dai James Addiction ai Dinosaur Junior per cominciare con la Prima Data per arrivare a Peggy Goo che è ormai diventata una delle Stardis giochi se non la Stardis più importante del mondo c'è il nostro Venerus perché abita qui a Milano insomma un ragazzo che dei suoni dell'elettronica ha fatto tanto e della chitarra certo Fontaine de C Casebien cioè nomi che per chi ascolta determinata musica possono essere importanti vederli di fronte al mare un boutique festival ecco un festival boutique bravo Andrea ma anche un festival di tendenza io invece scelgo sono più metropolitano cioè scelgo il Miami 2426 a Milano 2426 maggio chi c'è oltre le zanzare? ci sono i CCCP in apertura così e poi c'è per ogni serata un decennio dei tre allegri ragazzi morti 94-2004 4-14 14-24 lo fanno tre concerti diversi per ogni serata poi altri nomi aprono anche agli stranieri non è solo l'inditaliano ci sono i Phoenix poi Lucio Corsi l'hai citato tu i Selton i Ministri c'è un po' tutto l'inditaliano io rido perché perché Luca ride ma comunque i CCCP sono una delle dimostrazioni delle cose che vi stavo dicendo prima la mia cosa e gli andrò a vedere dove va lui a Miami perché loro suonano mi chiamate mi raccomando vabbè perché loro suonano perché sono ritornati dopo tantissimi anni e hanno trovato un pubblico che aveva voglia di vederli che vorrei che Andrea entrerci un pochino più dentro dammi la spiega di questa roba perché io ho una mia idea abbiamo sentito più gruppi in questi ultimi mesi tornati dalle brume o tornati da anni di silenzio che hanno detto loro per primi siamo colpiti del fatto che ci sia ancora tanta gente che ci vuole vedere in molti ci hanno detto sai abbiamo fatto un teatro all'inizio perché pensavamo fossero in pochi abbiamo dovuto allargare un palazzetto e ci siamo ritrovati la nostra gente perché non si aspettavano una cosa del genere secondo me quello che è successo è questo abbiamo vissuto l'epoca in cui i numeri non davano la dimensione esatta di quello che era la musica perché la pirateria si era mangiata tutta una quota di mondo reale ma che non generava ovviamente numeri reali perché era tutto nascosto e allora chi magari aveva un successo e però non lo vedeva concretamente invece ce l'aveva perché la gente ascoltava scaricando dai peer to peer eccetera eccetera oggi si ritrova e dice ah ma come ma allora mi seguivano e però non c'avevo i numeri ma c'è anche un'altra cosa io sono d'accordo con quello che dice Andrea aggiungerei anche un'altra cosa un pochettino più forse contemporanea e cioè che noi stiamo parlando troppo di numeri quando stiamo parlando troppo di numeri e spesso i numeri non vengono letti o non vengono rivelati o non vengono percepiti per quello che effettivamente valgono e quindi tanti si ritrovano ad avere un seguito che magari come era al tempo dei peer to peer sfuggiva sarebbe quasi da spiegare cos'è il peer to peer che ci segue perché è un linguaggio che attiene è uno scambio pari a pari praticamente cioè insomma era quello era quello che succedeva con come si chiamava Napster con Napster che fu l'inizio di tutto fu l'inizio e fu il fenomeno che mise in ginocchia la discografia però ragazzi abbiamo dimenticato una cosa fondamentale di questa estate c'è un sacco di rap hip hop dal vivo è vero è la prima volta forse ce n'è così tanto dal vivo ce n'è tantissimo dal vivo possiamo già anticipare che per primi siamo stati colpiti ce l'eravamo segnato ma è molto in lastra nel 25 addirittura Marrakesh che si prende a San Siro e gli stadi e gli stadi attenzione vi ricordate quando fece i 5 miliardi di forum uno in fila all'altro gli chiedemmo ma perché non fai San Siro e lui rispose io non farò mai lo stadio se lo faccio farò il tour negli stadi sai che non mi ricordavo bravo ha mantenuto perché lui non voleva fare quella cosa di mi sono messo la medaglia e poi la volta dopo non so più cosa fare oppure faccio il secondo stadi e l'ho vuoto ha annunciato 6 stadi è un tour comunque è grande ma è beh ragazzi ha dimostrato ha dimostrato con questi dischi che sta facendo con il live della scorsa estate ha dimostrato di essere non solo un grande animale da palco ma di scrivere delle canzoni al di là del fatto che sia un rep o meno che hanno il contenuto guarda che i testi i testi insomma gli ultimi due dischi hanno testi e poi dicevamo appunto c'è tanto hip hop quest'estate cioè c'è Tedua che si fa due date a Light Days c'è il Red Valley a Olbia che è pieno di questo mondo da Gali Drillianer Gemitides Kid Yugi c'è una serata Tony F Sfera con Giollier tra l'altro è come se pensate questo quella serata per quella generazione è come se qualche anno fa ci fosse stato una data Ligabue e Vasco insieme perché Giollier e Sfera da ormai 3-4 anni cosa sono l'artista più ascoltato il disco più ascoltato più streamato eccetera eccetera non c'è probabilmente la rivalità che c'era tra Liga e Vasco però a livello di immagine e presa su una generazione è la stessa cosa poi ci sono i tre stadi di Giollier piccola digressione ma riflessione anche qua abbiamo parlato di Prime Estate Red Valley High Date eccetera eccetera mi sembra che si sia un po' svuotato Firenze Rock perché vedo solo Avengers Seven Folded Tools fra i nomi perché siamo una comunità di ascoltatori di musica un po' comodoni secondo me e quindi perché qual è il mercato più forte? la città di Milano e allora cosa ti faccio? i Green Day te li porto a Milano Lana Del Rey te la porto a Milano Metallica c'è Rock in Roma e poi c'è Luca Summer vi ricordate cosa dice Ducchero sempre che ha un pubblico che comincia insomma a essere alto come età i miei vogliono sedersi vogliono stare comodi cioè come dice lui è un pubblico comodoso ovviamente nei nemiti del possibile ma è sempre meno secondo me in linea anche il concetto di essi dissi adesso se vogliamo tornare lì significa andare in un posto stare venti ore in un marasmo assoluto tanto che zanzara magari per la passione di vedere quel gruppo in quel momento non tutti sono disposti a farlo allora anche i festival stanno pensando di mettere insieme non solo la musica ma anche il benessere vorrei dirti una cosa aggiungo questa cosa che hai detto tu una cosa importante perché sto vedendo proprio in questi giorni ritornare sui social la figura del nostro caro amico Lorenzo Giovanotti con Francesca che pare che appunto stia meglio che stia ragionando sta postando molte immagini dei suoi Giovabici 1 e 2 ecco appena hai detto questa cosa la gente sa che va a vedere gli ACDC sa che va a vederli in un posto non proprio comodo cosa di non comodo quanto non è stato comodo il Giovabici eppure si vedevano generazioni diverse insieme con quello spirito lì probabilmente se hai lo spirito per andarti a vedere un live di un cantante che ha una storia così importante perché se solamente tu mi dici un titolo degli ACDC che è diventato storia della rock a me vedere dal vivo io correrei a vederli quindi quello lo fai lo sforzo probabilmente sul comodoso lo fai su artisti che vedi anche più spesso ma anche perché anche perché cioè tutto era portato alla fatica che fai per fare un selfie per fare la foto cioè quanto vale la pena stare 92 ore in macchina per andare a vedere manca l'experience ragazzi ok ahimè oggi tutto è diventato experience e purtroppo troppo spesso non c'è nulla oltre alla alla musica cioè se devo fare sì fatica per prendere l'acqua i token la coda il bagno mancano i servizi accessori non l'experience manca quello secondo me la roba dei token poche effettivamente la roba dei token per fortuna è caduta a tocchi comunque insomma cavoli cavoli dei token detto questo abbiamo parlato di un sacco di nomi di un sacco di festival di parecchi personaggi quelli che noi vorremmo andare a vedere che andremo a vedere e non ci dimentichiamo che in questa estate poi ci sono anche altri luoghi dei live importanti come l'arena di Verona che per esempio grazie al fatto che verrà ripreso una nessuna centomila dicevi appunto Andrea fuori microfono prima che bello questo fatto che ritornano le signore della musica Fiorella non era stata bene e quindi era saltato la scorsa volta mi dicevi Paolo che lo presenterà Amadeus presenta Amadeus ed è uno degli ultimi eventi che fa con la Rai effettivamente e infatti ci sarà questa attenzione che c'è stata in questo periodo beh cavolo noi abbiamo avuto l'ultimo Amadeus Rai qui a pezzi è vero adesso aspettiamo invitiamo che invitiamo Carlo Conti secondo me Amadeus deve venire qua appena arriva ad annunciare la prima cosa del nove è stato un passaggio di consegne Amadeus è venuto qua perché noi presenteremo il prossimo festival è vero il festival presentiamo noi è vero è vero è vero va bene siamo arrivati alla fine direi io comunque ho una voglia tremenda di andare a sentire musica quest'estate sotto il palco zanzara caldo non importa basta che ci sia musica tu sotto il palco sì a sudare sì mi piace stupire no più che altro ti piace stupefarci perché noi praticamente se fossimo con te sotto il piaco e tu che sudi ci porterebbero via in barella lo sappiamo no noi non ci crediamo fino a che non lo vediamo va bene ci vediamo sotto un palco va bene ci vediamo sotto un palco mi raccomando se lo vedete non calpestatelo è lui ciao a tutti pezzi 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 pezzi